Doveva essere un fine settimana da urlo per residenti e attività commerciali pronte ad accogliere migliaia di turisti e gente che avrebbe utilizzato questo ponte pasquale per spostarsi con migliaia e migliaia di persone in viaggio lungo le autostrade, direttrici nazionali e con le località turistiche che erano stracolme di persone e noi cronisti. Oggi avremmo riempito le pagine di giornali e di TG con resoconti e immagini di gente che si godeva i primi sprazzi della bella stagione con il divertimentificio che aveva i motori a pieno regime. E invece siamo qui tristemente a parlare di controlli, multe, schieramenti di polizia con strade, spiagge deserte ed elicotteri che sorvolano arenili e boschi non alla ricerca di pericolosi latitanti ma di normali cittadini evasi dalle proprie abitazioni dove sono costretti ormai da quasi un mese per colpa del covid-19. 70 pattuglie e oltre mille uomini tra forze dell'ordine, polizia ed esercito a presidiare strade e varchi cittadini. 4.098 sono complessivamente le persone controllate nelle giornate di sabato, domenica e lunedì per l'osservanza delle misure di contenimento per la prevenzione e il contrasto dell'epidemia da covid-19. Fa sapere la prefettura di Pesaro e Urbino, 1.619 sono quelli effettuati nella giornata di sabato con 50 persone sanzionate, 1.221 nella giornata di Pasqua con 102 sanzioni e due denunce per altri reati e 1.258 nella giornata di Pasquetta con 80 violazioni accertate ed una persona denunciata però per altri reati. Nei tre giorni sono state inoltre controllate 970 attività commerciali, 472 nella giornata di sabato, 2.51 in quelle di Pasqua e un'attività sanzionata e ben 247 in quella di lunedì dell'Angelo. Questi i freddi numeri di questa mega operazione anti-esodo, tutto sommato però tranne alcuni sporadici episodi come a Cattabrighe dove i risiedenti di una via chiusa si sono riversati in strada o coppie di anziani in giro con le scuse più fantasiose o la podista fanese che non ha resistito a correre sulla spiaggia. Il giudizio del prefetto di Pesor Urbino è tutto sommato positivo. I cittadini della provincia hanno dimostrato grande senso di responsabilità come testimoniato dal numero contenuto di violazioni contestate. Grande apprezzamento, sottolinea il prefetto, va rivolto al lavoro delle donne, degli uomini, delle forze, dei polizie, dei militari, delle forze armate e delle polizie locali che hanno assicurato un efficace controllo del territorio, aiutati in ciò anche dalla collaborazione dei cittadini. Importante in questo senso, conclude il prefetto, sono stati i continui appelli dei sindaci della provincia e dei rappresentanti delle istituzioni e degli stessi mass media a restare a casa.